Salve onorevoli, rieccoci qui, un nuovissimo episodio, io sono la Rax di Kormaris, siamo su The Ender Scrolls IV Oblivion e nello scorso episodio ci hanno lasciati con la missione vizio per quanto riguarda la corte di mania, e ora dobbiamo comprendere la follia, quindi fondamentalmente le sarei sciogorati abbiamo finito il nostro incarico. Come sempre Monty ci parte, cosceo, eh? Cosa vuoi dire? Quindi la grigia marcia succede periodicamente. Una nuova cause per un effetto diverso. Siamo cambiare le cose. No! Le cose saranno diversi questa volta. No! 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 Onesto! Giustamente! No! 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 Bugio non me l'hai chiesto educamente, è una cazzata educatamente! E qui veniamo al più grande scacco matto dell'intera serie. Come potrei essere un principe da Hedrico? Una vera questione. Non nemmeno. Almeno non penso così. No! 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 Il hymn. Perché io non sarò qui. È semplice, davvero? Se non pensi non lo pensi. Dove sarai? Non mi sono qui. Non ho detto che non sono già. non mi sono qui quando Jiggalag si spiega. È una delle regole. Eh già E poi Eh beh giustamente Ma sei scemo? Almeno disabilitano I tuoi minion in che senso? In che senso? Credo si rompa le palle e basta Però va bene lo stesso Sacerdote dell'ordine Oh povero cucciolo Oh bene Obelischi Eh beh direi Io preferivo il formato Bene Parliamo di Gigalag Eh beh Veramente già lo stanno facendo Parliamo della Grigia Marcia No cosa dicono? Ok forse sei incazzato Ok Grande torcia A great torch Shines brightly Above Nusheath A beacon of hope For all the citizens Except It doesn't It's gone out Happens every time The Grey March begins Which it has Makes all of my subjects Uneasy Tense Homicidal Some of them at least We need to get that torch Relit For the place Tutto questo per Un faro Quanto Cristo è Fragile L'equilibrio Delle Shivery Island Fiamma di Agnon It's what's used To light the great torch Haven't we covered this? You'll find it in Scylarn Ah quindi i santi seduttrici Ok va bene Pensavo minion Tipo mostriciattoli Scylarn Onestamente lo stiamo facendo Un po' incazzare Perché non sono ancora Te fondamentalmente E quindi si ragazzi Abbiamo uno dei più interessanti Scacchi matti Di tutta la serie D'Elder Scrolls Diventare non propriamente Un principe da Edrico Ma una sua versione Ed è questo l'obiettivo Fondamentalmente E se vi state chiedendo Il perché Lo capirete con la storia principale Però ricordate che comunque Siete unicamente Una versione Ciao ragazzone Una versione Di lui Non siete Lui Lo dico fondamentalmente Sento rumore di battaglia Ok anche Ma dov'è Vabbè Lo ignorerò Se voi morirete tutti Beh fondamentalmente Darò la colpa La grigia marcia Detto cioè Come si esce da sto paesino Dove cazzo è l'uscita Senti ragazzi O sono stupido io Ah quindi si esce da qui Porco il ca Ah no Senti l'uscita Me la segna di lì Di lì esattamente Appunto di lì Ma sarò io rincoglionito Ecco Ci ho provato Fallendo miseramente Decisamente E dicevo Qui quindi ragazzi Ricordate Perché noi non diventeremo Sheogorath Diventeremo una versione Di Sheogorath Perché Sheogorath Ha una storia particolare Che la capirete in seguito E Solo lui Ha questa Particularità Ma del resto Sheogorath è stato sempre Il principe daedrico Particolare del gruppo Era quello tipo Il bambino speciale Della classe No dai Questa è bruttissima Mi dissocio Più che altro Fondamentalmente Perché cosa succedeva Fallo Evito i cristalli Per ora sono nuiosi Ne affronteremo a bizzarco E fidelico Dicevo Fondamentalmente Perché Ci troviamo Ad Cioè perché Sheogorath È particolare Perché questo Già lo scoprivamo In moto Quindi Che non viene Né messo Tra i dedra Buoni Tantomeno Tra i dedra Cattivi Ma è nel dedra Della via di mezzo Perché fondamentalmente Gli enti dicevano Che nel 50% Dei casi Aiutava Chi lo chiamava Nel 50% No Quindi È sempre un po' Strano Capirlo Perché non si è mai Effettivamente Quando sta sparando Una delle sue Cazzate Da folle O quando ti sta dicendo In realtà Tutto il piano Ora Siamo di fronte A una scelta Ma un momento Eccoci qui Signori Quindi Prima di tutto Ho raggiunto Le ruine di Silarne Devo parlare Con i comandanti Dei Santi Dure E degli oscure Selutrici Per sapere Come accendere La fiamma Va bene Vika Ciao Vika Sono i miei Sono affari miei Cara Ma sei scema Sono qui Per l'incarico Di Shogora Ok Devo accendere La fiamma Di Agnon Perché giustamente Mettevi d'accordo Diciamo Fai proprio schifo Fa proprio schifo Se parlo con te Parti da parte Mi ha inviato Shogora Ok Devo accendere la fiamma Non possiamo Scendere la fiamma Se non possiamo Scendere la fiamma Scendere la fiamma Di l'altare Dio Dio Di l'inferno Mascano Il nostro Mazzal Khanna Vuole parlare Con te Poi Procedi tra l'altro un santo d'oro maschio e fateci attenzione ho sentito per caso due ufficiali dei santi d'oro discutere sul metodo migliore per attaccare gli oscure sedutrici il luogotenente Mirella ha menzionato qualcosa a proposito della profondità sotterranea un passaggio segreto laterale diretto all'altare degli oscure sedutrici dovrei riuscire a sapere un'utile di ammigliere saluto, stranger sei qui per aiutare noi a guadagnare gli oscure sedutrici fuori di Ceylon più o meno Aureal è quello che chiamiamo noi il servizio più loyal e onorabile Fiamma di Agnon la fiamma è solo litta a la commande di Sheregore da delle altriche di Rappertura e Dospraire dentro del sottotitore di Ceylon sono sicuro che Armazul Canna ci sarà felice a te aiutare quando le mazgine sono guidate da delle altriche di Dospraire ok ok alas we have not seen the altar of despair for many years it is in the underground part of Cylon which is controlled by the Maz'kin the Maz'kin do not even allow us free passage to worship there which is one of the many reasons why they are unfit to continue to guard it okay... come here brella... ah si questo me lo ricordo... le profondità sotterranee scouts recently discovered another way through the ruins to the altar of despair the Armasul Kanner wants to assault the altar down the main passage but the Maz'kin are expecting us to come that way they've strongly fortified the main passage against us if we attacked through the Underdeep we could take them by surprise if only Kanner would listen to me and attack down the main passage will end the same as it always does a glorious defeat because Kanner don't do it as a trap it's true if the Maz'kin knew we were coming that way we would stand a chance but I'm convinced the Maz'kin don't expect us to come that way if we attacked in full force we could take the altar of despair before they had a chance to react if only I could make Kanner see that maz'kin the dark seducers of ill repute whose every action drag share godess holy name I thought you would uccidere per ottenere l'armatura maschile da santo di santo d'oro al dare dell'estasi it's just there at the top of these steps you would pray for the blinding ecstasy which is the ultimate reward for those in Sheregore's service ok facciamo un salto di qui invece ah loro non c'è un cazzo dentro direttamente silan bene picchiamo dentro loro si sono direttamente barricati dentro ecco qua quello che mi piace bottino gratis allora senti queste discriminazioni non ho capito sono qui per incarico di Shogorath allora io sono a vostro servizio il Grach Hedrick Ulfri comandà qui vorresti parlare con le seduttrice oscura sicuramente credo che mi alleerò con le seduttrice oscura poi capirete il perchè altario dell'estasi l'autario dell'estasi l'raptura è presenta per gli aureoli in loro complessità ma questo cambia pronto altario della disperazione altario della disperazione qui dentro il shrine della flame di Agnon continui nel corredore se vuoi meditare sull'eserci di tutte le cose mortali aureali i nostri rivali i so-called golden saints un giorno Sheagorath finalmente riconoscerà il loro stupido e li esprimano dal realm ok Fiamma di Agnon The Holy Flame can only be lit from the altars of despair and rapture alas the aureoles hold rapture for now you should speak to the grachedrick Ulfri at once she will be glad of your help to rid Sylarn of the arrogant aureoles once and for all Medzken You know us as dark seducers a name given us by our enemies but we are the mazken in our own tongue Sheagorath's only truly loyal servants vorrei dire che si deve faccia la stessa medaglia ma in realtà siete uguali cambia solo un po' il colore she is the grachedrick commander of the mazken here at Sylarn she has never yet been defeated by the aureoles despite their strength ok walk with our lord quindi iniziamo a parlare come vedete gli standardi cambiano anche iniziamo a parlare con la nostra amichetta il passaggio principale conduce all'altare della disperazione e difesa in forza d'oscurità se... dagli oscure seguitrici dovrei esplorare profondità sotterranea per vedere se fornisco una via d'attacco più semplice eh ma chi ti ha detto che io voglio ah salve metto a posto non ti preoccupare una semplice oscura sedutrice guardia boschi te la puoi piccare in culo tu e quelle cazzo di magie da quattro soldi uno se chiediamo altri uuuuuh si qui mi sa che non troveremo mai una maledetta matrice perchè il resto c'è diciamocelo è letteralmente tutto detto che cazzo sei eh devo accendere la fiamma di anni allora sei arrivato proprio in tempo per aiutare a difendere l'altre del rischio una volta la fortuna delle aureole è scattata sarò sottolineare la fiamma come il mio lord Sheogorath comanda i due altres il rischio il rischio il rischio il rischio il rischio di Agnon ciò solo gli servanti di Sheogorath possono sottolineare e io sono ho mi 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 si bla bla tutto l'arriol tutto già l'arriol tutto tutto l'arriol stichiamo che Only the Immorti... We are expecting the Orioles to attack any moment. They'll come down the main passage from the Altar of Rapture. They always do. They are overconfident as usual. We have prepared many traps and ambushes. It will be a glorious slaughter. Once the Orioles are destroyed, I will light the Flame of Agnon for you. Will you help us defend the Altar of Despair? I never suspected that Kana had the audacity to try such a risky assault. But we'll teach her to try to take the Nazkin by surprise. We'll cut them to pieces in those corridors. I'll redeploy my forces at once. You return to Kana and lead her into the trap. Once they are destroyed, I will kindle the Altars. Good hunting, friend. Ok. Ed è quello che voglio fare. Perché di fondo i Santi d'Oro sono per eccellenza il classico stereotipo del Cavaliere. Attacca frontalmente il nemico in maniera giusta. È il più onorevole possibile. La Blanca, insomma. Rasponi di noia. Morale della favola. Di solito vincono, di solito perdono. Non c'è un vero e proprio statistica fissa. La cosa che sappiamo però di certo è invece che ora possiamo cambiare noi le sorti in gioco. E tra l'altro è quello il nostro compito. E io potrei scegliere una, potrei scegliere l'altra. Perché del resto siamo in territorio di mania, quindi sarebbe anche un po' più giusto lasciare il santuario a mania. Ma non è questo che mi frega, perché come ci ha detto Shogorati, il nostro compito è rompere il circolo. Quindi fare tutto ciò che prima non si è fatto. Quindi un'imboscata di demenza, da parte, cioè in pieno regno mania, è davvero essere controversi. E quello sarà il nostro punto di forza. Agire in maniera totalmente spropositata e totalmente contro... Come posso dire, contro tutte le profezie, le cose, eccetera, eccetera. Dicevo, quindi quello è l'importante. Bisogna entrare nello stile del gioco e fare tutto ciò che è impossibile e impensabile da fare. Del resto se dobbiamo diventare Shogorati dobbiamo fare tutte le cose più folli possibili. Quindi vengo per conto di Shogorati, ho bisogno... Mi perdono, emissario. Siamo preparando per scegliere la scuola maschina da Cylarn. Poi che Sheogorath ti ha sentito per aiutarti. Eh già, fiamma. Ok, già me l'hai detto, 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 già me l'hai detto. Pieni di battaglia. Non è un'idea geniale. Perché? Perché? No! Per il semplice motivo che dovremmo andare dalle profondità. Che ne dici le profondità sotterranie? Ah, Meryl's beloved surprise attack. Un perfetto esempio di come i male non prendono le posizioni. Questo è molto discriminante. Ha fallato a considerare i rischi del suo plan. Se il Mascino avessi preparato un ambuscio along that route, noi sarebbero sotterrani. Siamo meglio di strutturare il passaggio principale, dove la nostra struttura superiore e la struttura possono venire in giro. Piani di battaglia. Sì, ma usa le profondità sotterranie. Sono tutti i male così obstinate? Non ti ho già detto che considero quella route per me? Beh, non per me, prega cazzo. Cosa fa pensare che tu puoi persuadermi quando il mio mio lieutenante non può? Eh... Le profondità, vabbè, sono senza difesa. Hai visto questo con i nostri occhi? Devo essere sicura che non sia una trappola, se voglio prendere un rischio così. Non è una trappola, menzogna. Perché qui ci stiamo attenendo in pieno stile demenza, ingannare, ma non saprete dopo cosa faremo. Infatti, ora cambiamo le sorti della battaglia, cambiamo la storia classica della fortezza di Sidan. Quindi, imboscata sia. Meryl era molto convincente anche. Molto bene. Siamo rischiamati. È l'interdipo. Può che la divina malattia di Sheogorath possesse noi oggi. In realtà non lo sta parlando. Si è baggato. Io però volevo dare un'occhiata a Porto Giuda. Ah, quindi iniziate uccidendo lei. Ok. Va bene. Possiamo prendere la mazza oscura. Ti dirò, ti dirò, ti dirò. Con tutti i cadaveri che avremo dentro possiamo anche lasciarla lì. Tutti dentro? Andiamo. Quindi, prepariamoci a questo bellissimo massacro. Oh, però, fatemi vedere nelle cose. Di avanti per te. Suvoro. Un momentino, ragazzi. Un momentino, porco Giuda. Dove è un mattello? Ecco qua. È una bella riparata tutto quanto. Non offendetevi, ragazzi. Però, porco Giuda. Se siete tosti, quindi preferisco affrontarvi nel migliore dei modi. Ora, voi direte, perché non volevano andare per le vie sotterranee? Beh, semplicemente perché è pieno, pieno, pieno. Ah, porco Giuda, Bruri, da Troia. Apritevi! Ok. Ok. Ragazzi! Porco Giuda! Dovete usare le frecce! Colpite! Non rimanete fermi! Ma perché io vi devo fare da cazzo di... Perché io vi devo fare da coso, come si chiama? Porca proia! Sto venendo molestato da quattro ragazzi, ragazzi. Per favore, non hanno il mio consenso. Possiamo fare qualcosa? Porca troia. Fa malissimo. No, che cazzo me ne frega. Possiamo continuare ad attaccare in maniera... Più o meno progressiva? Potetevi, chiudetevi, troia. Apri un po'. Uff. Su, su! Forza! Tu sei quello un po' più debole secondo me. Dai! Ciuna! Ciuna! Fottiti! Ciuna! Non so nemmeno chi cazzo sei. Ma credo sia il momento di continuare a correre. Uff. Dove vado? Continuate a combattere, ragazzi. Continuate a combattere. Masken! 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 Per il Madguardo! Porca proia. Aia! Porca proia! Voi tutti ripetete la stessa cosa. Eita Masken! Un po' giù da guarda lì. E crepa una volta! Non riesco a uccidere nemmeno uno. Porca proia. Sono durissimo. Uff. Non farlo! Lavorate, ragazze. Lavorate. Alcuno si è buggato. Ma poco ci frega. Noi continuiamo per le nostre vie. Vediamo dove dobbiamo andare. Apre un po'. Dai, ragazzi. Dai, 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 dai. Fate il vostro lavoro. Abbiamo un po' rotto le difese. Niente stiamo facendo da esca, porco giuro. Ok. Non ci sa. Almeno uno è morto. Il comandante del Santidoro è morto. Dovrei finire i Santidoro rimasti. Ah, eh. Per completare la dica delle nostre viste d'ufficio. Ok. Ci sono altre trappole, per curiosità. Continuiamo per sicurezza. Sì, dai, vai. Vai, 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 vai. Dai, forza, 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 forza. Ah, pensavo che erano un po' di meno, onestamente. Brutta troia. Ok. Uff. Uff. Era anche ora. I Santidoro a Sidan sono stati completamente distrutti. Dovrei parlare a Uffri. Riguardo all'accensione della fiamma di Agon. Adesso che le forze controllano entrambi gli altari. Uff. Freccia d'oro coraggiosa. Freccia d'oro brunita. Freccia oscura in gun. Vabbè. Ora ci prendiamo una bella spada, un bello scudo. E abbiamo la nostra bellissima... Le nostre bellissime armi in oro. Quindi, qui... Shuna, non so di cazzo eri. Nemmeno ti ho parlato. Spada lunga d'oro. La nostra invece è... Spada lunga d'oro. Uff. Posso dirlo che è stato un bel incontro. Bello tosto, duro. Loro credo che ora si raduneranno... Raduneranno... All'altare della disperazione. E ben venga. Ma poco mi frega. Perché ora iniziamo una veloce... Illustrazione... Di tutta la cripta. Soprattutto dovremmo trovare il comandante. Assolutamente. Qui è chiuso. E niente, potevo ripararmi qui. E non ci ho pensato. E lasciamo fare il lavoro sporto a loro. Però io sono stato un guerriero onorevole. No, manco per il cazzo. Abbiamo fatto tipo... Il trappolone del secolo. Effettivamente all'inizio è servito... Resistere un pochino. Però... Di fondo abbiamo fatto una strage senza i duali. Cioè veramente abbiamo ucciso quasi... Cioè... L'intera guarnigione di santi d'oro. Dopo che abbiamo convinto dell'esatto contrario. Questo mi rende una persona di merda? Sì? Me ne pento? No. Abbiamo una freccia oscura. È ok. Tu, mio piccolo santo d'oro, oltre a darmi il tuo arco, mi dai anche tutte le tue frecce, visto che le ho finite. Come vedete, ragazzi, era tutto praticamente calcolato. Lo scudo dei santi d'oro ce l'abbiamo. Sì. Quello è un santo d'oro normale. Andiamo a cercare se ci sono santi d'oro... Come si chiamano? Ehm... Ehm... Non mi viene il nome. Con nomi o comunque particolari. Così almeno vediamo se hanno dei loot particolari. Sì, io volevo trovare il ragazzone... Come si chiama? Milred... Sì, Milred l'abbiamo lasciato su Imperium, ma va... Più che altro come... Comunque il santo d'oro maschio, ecco. Che veniva discriminato da tutti gli altri santi d'oro. Che tutta questa misoginia non l'ho capita perché. Ma va lasciamo fare. Perché poi credo sia misandria, non misoginia. Frecce. Qui abbiamo... Altri cadaveri. Certo. Freccia d'oro coraggiosa. Sette... Questo invece è dodici. Beh, effettivamente. Pardon, Monfrère. Come fai ad aver equipaggiato due scudi? Non l'ho capita questa. Vabbè. Facciamo finta di nulla. Troviamo altri simpatici ragazzoni del quartiere. Qui è chiuso. Porco giuda. Vabbè. Scendiamo. Qui qualche cadavere c'è. Abbiamo visto, sì. Questa è la strada principale. Qualche cadavere dovrebbe esserci. Ma manco uno, mezzo, un quarto, zero. Misbanata, nuda. Va bene. Va bene. E' una oscura sedutrice l'avrei pure voluta trovare. Almeno per fregarvi l'arco. Vabbè che l'arco, diciamo, ce l'abbiamo già nella sua versione unica. Grazie al dono della duchessa di mania. Mi spiace che Mirren è morto. E nemmeno l'armatura ci lascia. Sto figlio di puttana. Abbiamo una spada lunga d'oro. Spada lunga d'oro. Santo d'oro. Mi dai le tue frecce. Pesano un botto. Però ti dirò. Tutto fa brodo qui. Tutto fa brodo. Qui è chiuso. Qui si esce dall'entrata principale. Però non mi ricordo come si chiamava il comandante onestamente. Perché quello lo volevo perquisire. Magari avevo qualche arma a capivare. Ma credo di non onestamente. Quindi qui come vedete ora ci sono gli oscure sedutrici. A te ti rubo la freccia lucente. La mazza da te oscura. Anche se un arco non mi avrebbe fatto schifo. E ora abbiamo la diciamo domanda più importante di tutte. Se io riparo questa roba. No. Tra l'altro mazza della follia. Senza nemmeno un'immagine del cazzo. Ma va bene. L'armatura ce l'hanno ben danneggiata c'è da dire. Cioè abbiamo subito botte belle belle pesanti. E prima di ciò andiamo a dare un'occhiata. E vedere definitivamente questa roba. Questa fa 26. La mazza ne fa 8. Che cagata. Gli scudi invece almeno vediamo quelli. Questi 28, questo 8. Perché così poco danno? Vedete armati tutti di mazze. Le mazze non possono perdere i loro amici. Sì. Sono tutti armati di mazze. Le loro armi fanno letteralmente cagare. Fanno tanto cagare. Le mazze non possono perdere i loro amici. Vabbè. Non siamo qui per dedicare. Beh effettivamente con armi così pessime dovevano per forza puntare tutto sull'inganno e la strategia. Quindi tiriamo dritto verso la zona fondamentalmente dell'altare. Però non so se andremo all'altare della disperazione o dell'ecstasy. Sì dell'ecstasy, dell'estasy. Non mi ricordo onestamente. Per sicurezza in tutte le parti. Guardate che belle sono tutte in preghiera. Eh beh cazzo. Modestamente. Modestamente. Qui sono tutti inchinati, tutti in religiosa preghiera. Qui che cosa c'è? Per curiositas. Credo ci sia l'altro altare. No, profondità sotterranea. Allora nulla. Andiamo all'altare. E ora capiamo di fatto cosa intendeva lei per accendere il... Come si chiama? Vittoria è la nostra. Ho già instruito la mia subordinanza per incendere l'altare della raptura. È il mio honore di sacrificare me stesso sull'altare della disperazione. A comando di Lord Sheagorath. Ehm... È veramente il solo modo. Cosa vuol dire? Ogni maschino, sotto la mia comandata, potrebbe assolutamente accettare questa honore, se non fosse la mia proposta per accendere. Hai partito bene. Io ti daria quasi l'honore di incendere l'altare, se fossi un morto. Farewell. I luci dell'oblivione mi aspettano. Loro una volta morti, per questo ci sono tutti i resti inceneriti qui. Una volta che si muolano essendo immortali, arrivano... Però perché sei un po' più scura delle altre? Vabbè. Dicevo, loro ritornano nelle acque dell'oblivion, per cui reincarnarsi tra qualche secolino, ecco. E mi chiedo, se ci vado dentro mi accendo? Sì, lo so che sono idee di merda quelle che mi vengono. Proprio sono troppo curioso. No. Wolfrey ha sacrificato se stessa sull'altà, all'altare della disperazione per accendere la fiamma di Agnon. Adesso potrò prendere la fiamma al cortile e portarla al muscelo. Vai cazzo! Potevo prendere! La sua roba, ero vicino. Cosa è, emissario? Nulla. Continuate a pregare. Nulla. 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 Tanto meno qui. È una perla. Se ti dico, questo qui ho trovato la perla, sei fortunato, vieni a casa con me. Perché? Perché è semplicemente cenere. Però è cenere unica. Ok? Cioè non troverete nessuna altra parte del dioco se non vi resti inceneriti. Solo che io volevo anche dare un'occhiata al santuario dell'Estasi. Che comunque dovrebbe esserci accessibile. Cioè dovremmo riuscire ad avere accesso al santuario dell'Estasi. Non so come. Eh. Ma ci dovrebbe essere perché onestamente non mi ricordo. Quando lo trovo vi avviso comunque. Beh effettivamente io sono scemo. L'altare dell'Estasi è fuori. Quindi fatto ciò dobbiamo prendere la fiamma. Come prendiamo la fiamma? Andandoci dentro. Fiamma di Agnon aggiunto all'elenco degli incantesimi. Eh. Ho camminato nelle fiamme di Agnon. E il sacro fuoco arde in me. Dovrei tornare a New Shallot e accendere la grande torcia nel saccello di Adensul. Vedete noi abbiamo questo effetto molto particolare e carino tra l'altro. Quindi noi ci spostiamo direttamente senza evitare tutto il percorso a Bliss. Eh. Perché è più vicino al saccello fondamentalmente. Ora chi è Ardensul? Nessuno e qualcuno. Cioè Ardensul si presuppone sia un eroe. Si presuppone sia un eroe. Si presuppone sia un ingannatore. Non lo si sa. Si sa che è un personaggio che un tempo regnava nelle zone delle Shavery Island. Aveva tipo 213 seguaci. Si è ricordo bene perché ho letta da poco la storia. E praticamente il problema è che non si ha una versione corretta perché sia Mania sia Demenza hanno la loro personale interpretazione del mito dell'evento insomma. E quindi Mania diceva che fondamentalmente era una persona che si divertiva, un artista, uno scrittore, anche un poeta. E quindi lui decise un giorno di dare... E soprattutto era una persona estremamente dedita ai piaceri dell'estasi. Quindi lui fondamentalmente un bel giorno decise di fare una cosa divertente. Boh, con Giuda. Ma quindi si accendono pure la torcia e mi dà l'effetto. E beh, giustamente. Ehm... Ho un neon in mano. E praticamente che successe secondo la teoria di Mania? Che lui un giorno diede questa festa enorme dove l'intera... Tutti i suoi seguaci si diedero a tutti i suoi piaceri fisici e si drogarono con della menta verde. Fino a tanto che loro il cuore di tutti quanti esplose in un bellissimo bagno di sangue. Morirono tutti ai 213. Invece la parte di Demenza dirà che loro hanno praticamente preso... Ehm... Si parlava di questo elemento come un grande incannatore, tessitore soprattutto. Come Sil era paranoico e pensava che qualcuno potesse ucciderlo. Gli decise di specializzarsi in quest'arte e di leggere il cuore delle persone. Quindi cosa fece? Durante un banchetto avvelenò il vino e paralizzò tutti quanti. Tagliandogli il cuore per scoprire chi era il traditore. Però man mano che andava avanti si arrabbiava sempre di più perché il traditore non lo trovava. E alla fine decise di recidersi e tagliarsi il suo stesso cuore. Di qui scoprì che in realtà era lui il traditore perché di fondo aveva ucciso tutti quanti. Quindi non si sa di fondo chi è. Credo che sia molto ovviamente un simbolo fatto apposta per unire e allo stesso tempo ottenere estremamente divise sia mania che Demenza. Ma ora. La famiglia di Agnon. La foglia di inspirazione e raptura. Se ti luci la grande torcia sul maniato di Sassalm. Ti sarai un ero per i nostri amici. Ti assurro. Mmm. Ehi. Fammi pensare. Non pensi nemmeno. Crivi nemmeno. Lascia il tuo cuore sui avanti. Vedo che lo farai bene. Nel fine. Tu ci credi? Tu mi hai da dire qualcosa. Tu fai con il fuoco di agnon. Il fuoco di verità. Il fuoco di bambino. Il fuoco di bambino. Ma se lo fai così non è molto bello. Vieni. Light la grande torcia per la Dementia. Illuminati le conspirazioni. Diviscono le ombre. Le persone di Crucible ci aspettano il loro ero. Ok. Fammi pensare. Quello che posso fare sicuramente è salvare. E vi dirò. Vi dirò. Dovremmo scegliere tra mania e demenza. Ehm. Se chiedo a te. Sto pensando a mania in effetti. Oh no. Tu non vuoi fare questo? Non credi che sono lievi. Non sono dei veri amici. Non lo vedi? Come ti senti che mi fai così? No. Light la torcia per la Dementia. E vedrai come trattiamo i nostri amici. La Dementia prende l'uomo. In realtà è una semplice veste. In realtà è una semplice veste che ti dà bono su sicurezza a fortuna. Ehm. E scassinare. Aspetta fammi pensare. Ha detto che ho veramente pentito delle mie azioni. Ero propenso per la Dementia. Ah una ricompensa più terrena. Già iniziamo. Ehm. Poi abbiamo finalmente avuto il ragione dell'Aden Sur. Non che questo potrebbe influenzare il vostro giusto. Ora, cosa dici? Prendi. Quindi. Andiamo ora. Lasci la Senza Flaima che iniziare le persone di Bliss. A nuove stelle di straordinarmi. Ok Salviamo Ed eccoci qui scusate Quindi dopo aver aperto il cancello Apriamo quello di demenza E onestamente visto che abbiamo supportato demenza Credo che andremo avanti di demenza E invece col cazzo Dovrei riferire a Sheogorath Che ho acceso la grande torcia Come aveva richiesto Beh Riceviamo la benedizione Questo perché? Perché questo Come sempre Dobbiamo sconvolgere tutti i piani Signor Lid È quello che faremo Quindi non solo abbiamo portato alla vittoria Le seduttrice oscure Non solo ho portato alla vitt- Oh ciao Sheogorath Non solo ho portato alla vittoria Le seduttrice oscure Ma a sua volta Cioè con un tradimento Cosa che non avevo mai fatto Ma a loro volta li ho traditi Accendendo la fiamma Di mania Quindi parliamo con Sheogorath Dice? Per risparmiare tempo? Un marchio di grado è per noi E l'ordine inizia Armii di ordine Scoprono il mio Il mondo La morte La destruzione Allora ho bisogno di prendere i pezzi E ci sono sempre Molti pezzi Infatti ogni era cambia posto Ed è vero Posso fermare la grigia marcia? In che senso? Ora stai delirando Ebbè Però i clown morti si Quindi come vedete signore Lui sta cambiando i piani E noi dovremmo aiutarlo A cambiare i suddetti piani E allora? Apprezzabile che riconosce L'importanza dei cittadini Beh sì Pure io non visiterei Il regno di Malakoff Ripetere un duke O duchess Qualcuno Questo Comandere il rispetto Le persone Ralliare A te Tu avrai il suo amore Il suo amore Il suo amore Il suo complesso Qualcuno Aspettivamente Aspettivamente A nostra Ok Ma i duchi Non saranno scontenti? No 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 Assolutamente No Well Yes Assolutamente Bit of a shame For them But sometimes You need to break a few eggs Or skulls There are rules though Even in the isles Rituals and rules You need to follow them Speak to Arctus Andervenen The high priest At the Cicelum Arden Perché l'hai visto pure nudo Per curiosità Ok grigia marcia Soprattutto qualcuno da inculpare Tu credi? Ma signori fatto ciò sono più che costretti a lamentarvi che te che tiranno E ci becchiamo nel prossimo episodio